Anticipazioni del 29 e 30 novembre di My Home My Destiny ci immergeranno nelle nuove vicissitudini di Magdy e Zeynep, ora sempre più legata a Baris. Magdy, finalmente libero, trascorre del tempo all'aria aperta con la sua famiglia, ma l'atmosfera non è esattamente festosa. Sugli uomini di Cengiz, Nu e Gemile, espongono i loro dubbi riguardo anche agli affari di Magdy, sconcertati dalla sua connessione con l'anziano. Magdy spiega di essere stato aiutato e che dovrà gestire gli affari di Cengiz, che possiede varie attività. Sebbene Nu sia scettico, Magdy assicura che Cengiz ha anche provveduto a una nuova casa. Anche a casa di Zeynep, l'atmosfera è tesa. Con Magdy fuori, le donne aspettano il suo ritorno, soprattutto Nermin, preoccupata. Quando Magdy arriva, le donne notano la presenza di uomini sospetti, ma Sultan cerca di mediarne l'incontro con le madri di Zeynep. Magdy, con la piccola Mujgan tra le braccia, si scusa con Nermin e Sakine, riconoscendo la gravità dei suoi errori e promettendo di non essere più una minaccia per Zeynep. Nermin è scettica sulla sua redenzione e teme che la presenza degli uomini peggiori la situazione. Le scuse di Magdy non convincono Nermin, che non crede al suo cambiamento. Magdy accetta la situazione e cerca di scusarsi con Sakine, ma questa, sentendosi in colpa per averlo sostenuto in passato, non può minimizzare le azioni di Magdy. Magdy lascia la casa con calma insieme alla sua famiglia, e Zeynep esprime i suoi dubbi sugli uomini che lo seguono, temendo che Magdy si stia cacciando nei guai a causa delle attività illegali di Cengiz. Magdy e la sua famiglia vengono scortati dagli uomini di Cengiz fino alla loro nuova dimora, una residenza grandiosa e lussuosa che suscita l'ammirazione immediata di Kibrit e Benal. Nu e Gemile, però, non riescono a comprendere come la famiglia possa permettersi una proprietà così sontuosa. In particolare, Nu continua a preoccuparsi della natura del rapporto lavorativo tra Magdy e Cengiz, convinto che le attività dell'uomo non siano affatto legali. Rimasto solo con sua moglie, Nu condivide le sue preoccupazioni approfondendole ulteriormente. Gemile, nonostante le prime preoccupazioni per la situazione del fratello, cerca di attenuare le sue ansie concentrandosi sui lati positivi della situazione. Hanno una nuova casa e finalmente sono uniti a Magdy. Tuttavia, Nu rimane impassibile, avvertendo il reale pericolo a cui sono esposti. Gli affari di Magdy non sono affatto legali, e la presenza degli uomini che li scortano indica chiaramente che tutti loro sono in qualche modo in pericolo, nonostante la libertà di Magdy. La preoccupazione per la sicurezza di Zeynep è palpabile. D'altro canto, Zeynep appare sollevata e finalmente rilassata. Aver risolto il caso di Magdy, il suo matrimonio con lui e la dedizione nei confronti della figlia la rendono ottimista riguardo al futuro. La tranquillità della situazione è evidente anche a Baris, il quale, sapendo che tutto è tornato alla normalità, rende Zeynep estremamente positiva sulle prospettive future. La serata si prospetta dedicata al tempo trascorso con Baris. Anche Magdy e la sua famiglia escono per cena, prenotando un tavolo in un lussuoso ristorante. Quando arrivano, scoprono con sorpresa che non è stato riservato solo un tavolo per loro, ma l'intero ristorante. La grandezza del gesto li riempie di orgoglio, considerando la crescente influenza di Magdy. Solo Nu sembra sentirsi fuori luogo in questa situazione, soprattutto perché gli uomini di Cengiz si accomodano ai tavoli circostanti mentre cenano. Questo costante controllo rafforza ulteriormente le convinzioni di Nu riguardo all'illegalità degli affari di Magdy. Quando Metoli convoca per discutere dei programmi del giorno successivo, le paure di Nu sembrano trovare conferma. Se stai apprezzando il video, lascia un like e iscriviti al canale per non perdere i prossimi contenuti. Non dimenticare di attivare le notifiche per essere sempre aggiornato sulle ultime novità. Magdy si trova ora alla guida di una serie di attività, tra cui ristoranti e hotel, che dovrà gestire attentamente. Meto informa Magdy che è necessario effettuare sopralluoghi nelle attività più importanti e redditizie di Cengiz. Inoltre, Magdy dovrà spiegare la situazione alla sua famiglia e adottare massime precauzioni, essendo sempre scortati dagli uomini di Cengiz. Tuttavia, Magdy, ora capo delle attività, comunica a Meto che il giorno successivo passerà la giornata in famiglia e che i sopralluoghi previsti verranno effettuati in seguito. Rimasti soli, Nu esprime i suoi dubbi a Magdy. La situazione, secondo lui, non è sicura. La costante scorta indica un pericolo imminente e gli affari sembrano non essere del tutto legali. Propone a Magdy di tirarsi fuori dalla situazione finché è possibile. Magdy cerca di rassicurare l'amico, sottolineando che ora ha il potere per difendere se stesso e la sua famiglia. Magdy vuole continuare ad aiutare le persone del suo quartiere, ma Nu teme le possibili conseguenze di coinvolgersi negli affari di Cengiz. Alla fine, Nu raccomanda a Magdy di mantenere le distanze da Zeynep per evitare ulteriori problemi legali. A questo punto, Magdy ammette di essere ancora innamorato di Zeynep ma decide di lasciarla stare, consapevole dei suoi errori e dell'amore persistente. Nel frattempo, Zeynep e Baris cenano in serenità, e Zeynep esprime la sua gioia per la risoluzione del caso e la libertà ritrovata. Ignora le preoccupazioni di Baris riguardo al pericolo che potrebbero correre. Entrambe le cene si concludono diversamente, mentre Baris e Zeynep tornano serenamente a casa, Magdy e la sua famiglia, insieme agli uomini di scorta. Vengono attaccati da uomini armati in moto. Magdy cerca di proteggere la sua famiglia mentre i suoi uomini rispondono al fuoco, ma gli assalitori fuggono rapidamente. Magdy, infuriato, accusa Meto di aver messo in pericolo la sua famiglia, chiedendogli come sia possibile essere attaccati così facilmente. Specialmente il primo giorno di libertà e con una massiccia scorta. Urla la sua rabbia e minaccia Meto di sollevare lui e gli altri uomini dal loro ruolo se non garantiscono adeguatamente la sicurezza. Meto, dispiaciuto e colpevole, si scusa, ma avverte Magdy che la decisione spetta solo a Cengiz. Magdy, sicuro di non essere una pedina di Cengiz, sembra ignorare l'avvertimento di Meto e torna a casa con la sua famiglia. Tornati a casa, Nu cerca nuovamente di aprire gli occhi di Gemile sulla pericolosità della situazione. Essere stati aggrediti da uomini armati dovrebbe farle capire che Magdy potrebbe non essere in grado di proteggerli come dovrebbe. Il compito principale di un padre è quello di salvaguardare la propria famiglia. Gemile concorda con suo marito, ma la sua visione della realtà sembra ancora distorta. Sostiene che la responsabilità dell'incolumità della famiglia quella sera non ricade su Magdy, ma sugli uomini di Cengiz, che sono al servizio di Magdy solo perché pagati da Cengiz. Secondo Gemile, Magdy ha bisogno di un amico fidato che lo aiuti nei suoi affari e nella protezione della famiglia. Propone a Nu di dimettersi dal lavoro di autista per Baris e di unirsi a Magdy per risolvere la situazione. Nu cerca di non sconvolgere troppo sua moglie, ma è costretto a spiegarle che, pur amando Magdy e sostenendolo, non può accettare di seguire ciecamente quando è palese l'illegalità degli affari. La sua priorità è mettere in sicurezza la famiglia. E non può giustificare la pericolosa situazione in cui si sono cacciati. Gemile capisce che Nu sia disposto a lasciare sia lei che Magdy per mettersi in salvo e gli chiede se lavorare per Baris non sarebbe più facile. Nu spiega che continuerà a farlo solo per mettere del denaro da parte, preferendo una vita dignitosa, seppur non ricca, piuttosto che rischiare la vita e vivere nella paura costante. Gemile, tuttavia, dichiara che non lascerà mai suo fratello e chiede a Nu di lasciare il lavoro con Baris, altrimenti Magdy lo cancellerebbe dalla sua vita. Nu, stanco della situazione, afferma che per tutta la vita ha seguito Magdy senza mettere in dubbio le sue decisioni, ma ora non può più farlo, specialmente considerando il pericolo in cui ha messo la loro vita. Nella camera da letto, mentre Magdy si occupa della piccola Mujgan, Benal rinnova il suo affetto e desiderio per lui. Le risposte di Magdy, tuttavia, convincono Benal che, nonostante siano sposati, Magdy si senta responsabile per lei e la loro bambina, ma non si è innamorato o veramente interessato a lei. Il giorno successivo, durante la colazione, tutti si ritrovano a confrontarsi con un articolo pubblicato su un noto giornale riguardante la vicenda di Magdy e Zeynep. L'articolo sottolinea come Magdy sia stato ingiustamente accusato e successivamente scagionato grazie all'intervento del suo avvocato e della sua ex moglie, che aveva inizialmente denunciato il rapimento. Una foto con Magdy, Zeynep e Barist accompagna l'articolo. Nu esprime sincero dispiacere per Zeynep, che si ritrova ancora una volta coinvolta nei problemi di Magdy. Nermin, invece, si innervosisce per la vicenda in sé e fatica a credere che sua figlia abbia difeso Magdy. Resente anche del fatto che ora la notizia sia di dominio pubblico. Oslem, come al solito, coglie l'occasione per denigrare Zeynep e le sue decisioni, preoccupata anche per il coinvolgimento dei suoi fratelli e per la possibile rovina della reputazione della sua famiglia. Durante la colazione, Magdy chiede a Nu quando intende dimettersi dal lavoro di autista. Nu, che ancora non sa che Magdy lavora per Baris, risponde che non si dimetterà, desiderando mantenere la sua indipendenza economica. Magdy accetta la risposta per il momento ma gli raccomanda di riprendere la discussione in seguito, perché vuole che Nu si dedichi ai loro affari. Nel frattempo, Baris chiama Nermin per informarla che ha recuperato tutti i soldi sottratti da Ekrem. La notizia emoziona e felicita Nermin, che promette di organizzare una festa in onore di Baris. Subito dopo, propone a tutti di uscire per fare shopping, andare dal parrucchiere e godersi un po' della sua fortuna. Nermin desidera condividere la sua gioia e prosperità con coloro che l'hanno aiutata nei momenti difficili. Sultan e Demine cercano di rifiutare l'invito, temendo che Nermin possa portare via Zeynep ora che ha i soldi, ma Nermin insiste. Cerca di convincere anche Sakine, che alla fine decide di rimanere a casa. Sultan e Demine cedono e vanno con Nermin per una giornata di shopping e benessere, trascorrendo una piacevole giornata insieme. Zeynep e Baris trascorrono una giornata meravigliosa, passeggiando lungo il lungomare, lasciandosi trasportare dalla spensieratezza del momento. Girano in monopattino, gustano cozze da un venditore ambulante, bevono tè, scherzano, ridono e si scambiano affettuosità. I due sembrano trovare la loro dimensione, oltre ai problemi di lavoro, alle questioni familiari e all'aiuto reciproco, condividono anche scherzi, risate e complicità. Tornati a casa, mentre Sultan ammira gli acquisti della giornata, Alirisa chiama e invita Sultan a uscire, un invito che Sultan accetta senza troppo pensarci. Tuttavia, in seguito, si chiede il motivo per cui l'uomo le abbia proposto di vedersi al di fuori della sua abitazione. Emine nota la complicità e la probabile attrazione tra i due, esprimendo la sua felicità nel vedere che la madre potrebbe aver trovato un uomo che le piace. La mattina seguente sembra essere amara solo per Benal e Gemile, rimaste sole in casa. Benal esprime il suo rammarico per il fatto che Magdi non la consideri veramente una moglie, convinta che alla prima occasione Magdi seguirà Zeynep perché è ancora innamorato di lei. Gemile, già triste e preoccupata per la scelta di nudi lavorare da bares invece di sostenere il fratello, si trova di fronte a un'altra persona che non giudica positivamente l'atteggiamento di Magdi. Gemile, che sperava che il rilascio di Magdi avrebbe portato gioia e serenità nelle loro vite, si ritrova ancora una volta sola e ansiosa per il futuro della sua famiglia. Se il video ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale. Grazie.